Hanno usato arancia per farci un zucco. Riposa in age. Tutti pazzi per Peratunz al secolo Alessandro Perugini, che ha fatto dell'ironia e della battuta sempre pronta una vera professione. Due denti che fanno un incidente, ok, oppure la sigaretta, nonno che porta a spasso la sua nicotina, tutti giochi di parole. E vedo che, wow, vanno alla grande su Instagram. A retino doc si definisce fumettista, content creator, instagrammer, youtuber. Di fatto, le sue battute, le sue freddure, barzellette, enigmi fanno impazzire il web e le librerie. Con le freddure, freddure animate, ho fatto un'esplosione pazzesca, soprattutto con un libro che è Ridi che è meglio. Quel libro era magico, chiunque lo vedesse lo doveva prendere per vedere cosa ci fosse dentro. E siamo iniziati con 3.000 copie e ogni settimana esauriva. E tutte le volte eravamo lì a ristampare, ristampare, ristampare. Prima le freddure, poi i fumetti. Oggi è seguito da milioni di persone. I suoi fan più scatenati non hanno più di 14 anni. I suoi libri sfiorano il milione di copie. Apro una pagina di fumetti su Instagram per vedere se può andare bene. A quel momento lì disegnavo sui fazzoletti, sui post-it e vedo che, wow, vanno alla grande su Instagram. Fino a che scopro un format, che è ancora meglio delle freddure, per quel momento lì, che è un format investigativo dove tu devi indovinare chi ha ucciso due persone. No, chi ha ucciso Kenny, che è una unica persona. Il nome Kenny deriva da South Park, così facevo uccidere sempre lo stesso personaggio. Quindi in quel momento già avevo preso contatti con una casa editrice che aveva già visto il mio potenziale fin da subito. Una casa editrice molto buona, che è Tunuè. E quindi già stavo elaborando il libro. E ho fatto infatti i primi due libri con chi ha ucciso Kenny, con loro, che sono andati bene per quanto sono le vendite in generale. Un'altra sliding door è arrivata quando sono passato da fumetti a fumetti animati, dove c'è anche la mia voce. Sempre per colpa di un social, TikTok, perché volevo salire anche lì, però lì accettava solo i video, quindi ho dovuto fare un video fumetto. Oggi Alessandro lavora da casa e i suoi personaggi nascono proprio qui. È lui a dargli voce e anima. Il suo studio di registrazione, l'armadio della camera da letto. Pera, perché i topi mordono i tori? Ti prego, non lo dire. Perché sono roditori! Allora, quello è uno dei grandi segreti, è anche una battuta che faccio sempre quando me lo chiedono. Cioè, doppio davanti le mutande e i calzini. Mi danno tanta ispirazione. E sembra una cavolata, però tanti doppiatori dicono, lo faccio anche io. E quindi io non mi faccio problemi, vado lì. Il problema è che devo avere due computer e uno è dentro i calzini, praticamente. La mia missione, sostiene rivolgendosi alla sua community di circa 5 milioni di persone, è quello di strappare quotidianamente un sorriso ad ognuno di voi. Faccio le videodediche qui, personalizzate ai amici, dei amici. Non sapete quante me le chiedono al giorno, quindi tutti i giorni sono qui a dire ciao Alessandro, ciao Lorenzo, ciao Diego, ciao Emma. Tanto che a un certo punto dico, quasi quasi mi registro ogni singolo, ogni nome. Però non funziona, insomma, non funziona. Non lo faccio, non vi preoccupate. Senti, allora faccene una per Arezzo TV, vai. Ciao Arezzo TV, grazie mille per avermi intervistato. Siete i numeri uno. Allo! Grazie mille per avermi intervistato.